Guardate che bello, guardate, lascio la piazza Gaulenti oggi, stamattina ho fatto spesa l'Slunga, il supermercato più lussuoso che c'è, Slunga, devo dire che lascio qui la mia punta di questo grattacielo dove emergo più su, più su, per raggiungere che cosa oggi? Un borgo abbandonato, sì, dall'abbandono io ricavo un senso assoluto della mia costruzione interiore, ecco qua, sono in piazza Gaulenti, lascio la mia Milano, guardate, zona isola, porta Garibaldi, la punta di quel grattacielo mi permette di raggiungere la visibilità ottica ad un altro riferimento, dove la mia mente oscilla in un valico senza fine per determinare la mia personalità in un borgo, il più abbandonato è possibile dove ci sia la povertà, dove ci sia la felicità di vivere delle cose salubre. Io mi nutro di questa sostanza oggi già pronta e nutritiva che ho comperato all'Slunga per fare il mio picnic, guardate che bello qua, guardate, osservate, io vado oggi in treno, però parto dalla stazione di Porta Garibaldi, sì, sono qua io, da solo perché il mio amico Luigi Di Rò è ammalato, da solo ciò mi dispiace parecchio, parecchio in quanto io vorrei che la compagnia assimilasse un senso positivo tra le due persone, ma purtroppo il percorso vitale della vita ogni tanto è bloccato da qualche malattia, è subordinata ad uno spirito anche materiale e intellettivo. Io devo dire che parto oggi dalla stazione di Porta Garibaldi, qui Aldo, il sottoscritto, lascia la piazza Gaurenti. Grazie a tutti.